È una giornata contro i bombardamenti di Trump. Oggi siamo qui a manifestare contro la guerra. Bisogna creare un movimento come c'è stato già in passato quando è stato aggredito l'Iraq. Noi siamo contro la Nato, siamo per da sempre l'uscita dell'Italia dalla Nato e vogliamo ricordare che la Costituzione che abbiamo difeso il 4 dicembre dice che l'Italia ripudia la guerra. Ci aspettiamo che il governo italiano e Federica Mogherini tengano fede a quello che dice la nostra Costituzione. No alla guerra. No alla guerra. No alla guerra. No alla guerra. Sì, alla pace. Pace.